Al Fenerbahce ho affrontato delle partite molto importanti, sia nella Coppa Europea che nella Coppa Turca. Sabatini, dato il successo che ho avuto nel primo anno, mi ha voluto. Dato il successo del primo anno, sono stato rischiesto nel secondo anno. Se avessi avuto la maggiore fortuna di indossare la forma, sicuramente non avrei potuto venire qua. Non vedo nessun errore in questa scelta. Sicuramente nel centro campo della Roma ci sono dei giocatori molto importanti. Sono sicuro che ogni partita questi centrocampisti porteranno la squadra a un bel successo. E guardando in avanti io mi vedo come un centrocampista. Nel Fenerbahce ho giocato sia nella posizione 6 che nella posizione 8, mi sta dicendo. E penso che posso variare nel campo. Sono abituato a giocare nelle due posizioni. In tutte le parti del mondo si giocano dei derbi chiaramente molto importanti. Io in Turchia ho vissuto il derbi del Galatasaray. I derbi chiaramente provocano grandi emozioni. E quindi anche qua aspetto questi derbi con grande emozione. E' chiaro, dunque, ho cominciato a giocare a 18 anni al Buja Sport. A 19 anni sono entrato al Fenerbahce. E in tutte le squadre dove ho giocato c'erano dei giocatori, insomma, degli sportivi di grande esperienza. E comunque anche in mezzo a loro sono riuscito a dimostrare le mie qualità. E anche qui ci sono dei giocatori e calciatori di grande esperienza. E il mio scopo è quello di adattarmi al gioco di essi e giocare bene.